Sta dicendo che non ha mai sentito parlare di questo caso? No, signore, mai. Se dovessi essere chiamata a far parte di una giuria, sarei al sicuro? Perfettamente al sicuro. Nessuno saprebbe il suo nome o il suo indirizzo. Mamma, sei matta? Davvero vai al processo contro lui, bofano? Ho bisogno di un po' d'emozione. Ok, hanno appena svoltato nel viale. Sarà meglio che ti sbrighi ad uscire. Grazie. Tra dodici uomini e donne che compongono la giuria, ha scelto lei. Annie Laird? Immaginavo che fosse lei. Sa tutto di Annie. Muori, rimane per favore, ok? Colpisci, non se ne va! E finché il processo non sarà finito, lui le starà addosso. Annie, ascoltami bene ora. Sei in grave pericolo e anche tuo figlio è in pericolo. Stai scherzando, vero? Che ci facciamo qui? Questo è un momento estremamente pericoloso per lui. Potrebbe commettere qualche errore infantile. Potremmo perderlo. In un attimo. Oh mio Dio, no! Che prego, fermati! Fermati, basta adesso! Chi ti difenderà? Solo tu! Chi è l'unico che può farlo? Solo tu! Solo tu! Chi è? Dillo! 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 Dillo ancora! Dillo! Dillo ancora! Ancora! Devi solo pronunciare due parole. Due semplici parole. Sai quali sono? Hai già indovinato? No. Non colpevole. Dal best seller del brivido, Il Giurato. Non ti preoccupare, sarò sempre con te passo dopo passo.